Buonasera e bentrovati gentili telespettatori. Sabato 15 e domenica 16 ottobre l'ultima tappa toscana di CSI in tour è in programma ad Arezzo, in piazza Sant'Agostino. Tutti i dettagli nel servizio. Il 15 e 16 ottobre l'ultima tappa di CSI in tour ad Arezzo. Cosa è previsto e qual è il programma? Iniziamo già dal sabato, ovviamente sono due giorni in cui in piazza Sant'Agostino sarà possibile per tutti i bimbi, ma non solo, di usufruire di questi gonfiabili che fanno parte del centro sportivo italiano. Ovviamente faranno tappa ad Arezzo è l'ultima tappa, anche se la scorsa settimana non a Montevarchi e nel mese di luglio siamo stati qui a San Domenico, proprio per intrattenere i più piccoli. È una giornata di sport, saranno due giornate di sport, due giornate di inclusione, veramente, di sport veramente a tutti i livelli, a tutti i gradi. Ci saranno società di basket, la zumba, il pilates, la ginnastica dolce, le camminate. Insomma, una giornata dove abbiamo cercato di mettere insieme più discipline, ovviamente soffrendo sempre dei gonfiabili, ma anche dello sport. Lo sport in piazza. Il 5 novembre per il CSI un altro importante momento con l'inaugurazione della struttura qui di San Domenico. Sì, il 5 novembre partiamo, anche se comunque le attività sono già iniziate quest'estate con i campi estivi e stanno continuando tutt'oggi con i doposcuola. Però il 5 ce la siamo dati come giornata di partenza, un po' anche di tutte quelle attività che veramente avranno modo di far vivere il quartiere. La nostra mission, che è quella di educare attraverso lo sport, in questa occasione è una doppia mission, cioè quella di fare veramente squadra con il quartiere e con il territorio. Abbiamo terminato in queste giornate degli incontri sia con gli scout che con l'azione cattolica che con la parrocchia di San Domenico proprio per mettersi a tavola tutti insieme e capire come è meglio leggere il territorio. Ci siamo dati una lettura condivisa, cerchiamo di partire insieme con dei progetti e quindi noi il 5 di novembre partiremo con questo Open Day dove lanceremo tante discipline, tante attività con l'obiettivo ovviamente di fare una casa, una casa per il territorio, una casa per il quartiere, una casa dello sport. Sabato 15 ottobre torna nei supermercati Copfi della Toscana la raccolta alimentare per sostenere direttamente le persone in difficoltà del territorio. All'iniziativa insieme a Caritas Toscana aderisce la Caritas Diocesana di Arezzo Cortona Sansepolcro in tutti i supermercati Copfi presenti nella diocesi di Arezzo Cortona Sansepolcro. 120 costumi che sfileranno per le vie del paese domenica 30 ottobre. A Montalcino è tutto pronto per la presentazione ufficiale dei nuovi costumi del corteo storico. Domenica 16 ottobre al Teatro degli Astrusi alle 17.30 si alzerà il sipario sui nuovi costumi del corteo storico delle feste identitarie della città di Montalcino che sfileranno poi per la prima volta domenica 30 ottobre in occasione della 64esima Sagra del Tordo. Il progetto seguito da una commissione istituita dal presidente del consiglio comunale Alessandro Nafi e composta dai rappresentanti dei quattro quartieri e da un membro del comitato di tutela ha aggiunto alle figure ideate con qualche licenza dalla storia sul finire degli anni 50 alcune comparse filologicamente riprese dalla storia come le rappresentanze dei tre terzieri cittadini e la figura del podestà. Complessivamente il nuovo corteo sarà composto da ben 120 figuranti. Credo che sia per la città di Montalcino un evento che stiamo aspettando da anni a questo punto possiamo dire. Il progetto è infatti relativo a diversi anni fa ma negli ultimi anni si è concretizzato, non ha temuto nemmeno la pandemia, è andato avanti, si è pur un po' rallentato. Comunque quindi i nuovi costumi sono pronti, sono in attesa anche delle nuove scenografie che speriamo di poter realizzare a breve. Chiaramente il maestro Pierluigi Olla ha diretto i lavori con l'aiuto appunto della Sartoria Antonietta, la Sartoria teatrale di Firenze. Si avvalcia appunto della collaborazione degli artigiani di gran pregio provenienti forse un po' anche da tutta la Toscana. La comunità monastica di Montegiovi, consapevole della gravità della situazione internazionale, attraverso diverse attività si impegna per la sensibilizzazione alla pace. Dal 19 dicembre all'8 gennaio organizza una mostra dal titolo Presepi di Pace. La comunità invita tutti coloro che lo desiderano ad allestire a Montegiovi un presepe di pace. Domenica 16 ottobre alle ore 16 nella Basilica di San Domenico in Arezzo, primo appuntamento del ciclo di incontri Le Stagioni dell'Arte, organizzato dall'Associazione Acheropita. Relatori dell'incontro il professore Anselmo Grotti e Francesca Interlenghi sul tema Creazione, Libertà e Significazione, dalla Società dello Spettacolo all'Arte come luogo di relazione. Nel corso della conferenza verrà presentato il libro Connessi e in relazione di Anselmo Grotti e i progetti The Spirit of Cywall e The Supplicants di Francesca Interlenghi. Tutte le conferenze sono riprese e trasmesse dalla nostra emittente che è partner e che comunque collabora all'iniziativa. Il nostro focus di oggi è dedicato alla situazione economica a Retina con l'intervista al segretario generale della Camera di Commercio di Arezzo Siena, Marco Randellini, che ha tenuto un intervento sul tema crisi o opportunità all'hotel Minerva di Arezzo nell'ambito di un'iniziativa organizzata dal Rotary Club Arezzo. Grazie per l'attenzione è tutto, buona visione a tutti voi, arrivederci. All'hotel Minerva di Arezzo si è svolta una bella conferenza dal titolo crisi o opportunità sui temi economici, relatore appunto il dottor Marco Randellini, segretario generale della Camera di Commercio di Arezzo, organizzata dal Rotary Club di Arezzo. Come si è sviluppato il suo intervento? Io ho dato una fotografia aggiornata della situazione economica del nostro territorio provinciale, partendo dal raffronto con quello che riguarda l'economia regionale, dove siamo posizionati, e vediamo ovviamente che il nostro territorio è un territorio che eccelle, soprattutto per quanto riguarda l'export, dove occupiamo una buona fetta, circa un quarto del valore aggiunto regionale, e grazie al nostro tessuto imprenditoriale, fortemente condizionato dalla presenza di due distretti, dell'oro e della moda, siamo riusciti nel periodo della pandemia ad avere buoni risultati anche in termini proprio di valore aggiunto. Ci sono stati luce ed ombre, in particolar modo per quanto riguarda i metalli preziosi, l'oro, che nonostante le oscillazioni del prezzo, ultimamente ha registrato delle forti cadute di valore aggiunto che hanno un po' condizionato il risultato, ma che comunque ci contraddistingue nell'ambito, ripeto, regionale e anche direi nazionale, soprattutto per quanto riguarda il distretto orafo con i distretti gemelli, tra uno dei distretti che ha avuto le migliori performance, soprattutto per quanto riguarda la gioielleria. Per quanto riguarda gli altri settori, anche i servizi hanno recuperato, anche se non tutto sul 2019, quindi sul periodo della pandemia, e il tessuto imprenditoriale è rimasto, per quanto riguarda il numero delle imprese iscritte, è sostanzialmente stabile. Nel primo semestre di quest'anno registriamo un stand-by delle iscrizioni che avevano ripreso ad essere effettuate a registro imprese delle nuove imprese iscritte. Questo è un segnale che ci dice che in questo momento c'è un po' di attesa di capire che cosa succederà nei prossimi mesi, anche e soprattutto per il quadro geopolitico, l'aumento e rincari delle materie prime, delle commodities e soprattutto dei costi energetici e le difficoltà degli approvvigionamenti che sono fondamentali. Da questo punto di vista abbiamo anche focalizzato le difficoltà delle nostre imprese nel reperire mano d'opera, soprattutto specializzata nei settori tecnologici, ad alta tecnologia, e quindi la necessità di una formazione che si incroci sempre di più con i bisogni delle imprese. Dal punto di vista dell'occupazione comunque c'è stato un recupero, soprattutto nell'ambito degli indipendenti, dell'occupazione indipendente che era andata molto giù durante la pandemia, e quindi direi che per quello che riguarda anche il settore dell'occupazione c'è una ripresa consistente. Anche su questo grava purtroppo l'incognite del prossimo futuro e quindi è una fotografia che dovremo sicuramente poi aggiornare e ritoccare. Sono in ripresa i consumi, anche se non in maniera molto significativa, e continuano ad incrementarsi anche i risparmi. Il reddito non è diminuito rispetto al 2019, il reddito pro capite, il nostro territorio provinciale registra una inflazione purtroppo più alta della media sui prezzi al consumo. Questo è un po' il quadro sintetico che per quanto riguarda il turismo ci è stato un forte ritorno del turismo straniero, che però non compensa le perdite avute nel periodo della pandemia e soprattutto il settore alberghiero è in forte sofferenza, nonostante anche qui un recupero buono sui flussi turistici. Questo è un po' il quadro che sinteticamente ho tracciato, che ha dato poi luogo ai relatori di esprimersi, essendo poi i relatori anche i rappresentanti delle categorie economiche del nostro territorio, quindi c'è stato un ampio dibattito su crisi e opportunità.